buonasera popolo dei nottambuli di clivo siete qui a metal detector di sotterral underground io sono nora e qui con me la mia sexy tania ragazzi è sempre più sexy meno perché l'autostima va sotto i piedi grazie continua a creare aspettative e vabbè guardiamo la scheda dei nostri ospiti oggi insieme a noi di metal detector ci sono gli under the bed band alternative rock toscana attiva la 2012 si ispirano al crossover anni 90 e i più recenti sperimenti di deriva core mischiando gli stridi più rabbiosi con voci pulite di stampo post grunge unite ad elettronica bassi potenti e ritmi scatenati sono diversi i progetti che hanno realizzato andiamo a scoprirli under the bed ciao ragazzi benvenuti a metal detector di sotterral underground ora vi faremo un bel po di domande vi metteremo in difficoltà no scherzo speriamo allora intanto sono curiosa un po della vostra biografia quindi della vostra storia capire da dove siete partiti e dove state andando allora già domanda difficile sì sì perché trovare cioè riuscire a decidersi tra tutti da qual è la data d'inizio di under the bed è una cosa che si è un po di razza nel tempo perché in realtà noi tempi di myspace quindi già 2009 2010 così esistevamo già ma non avevamo i membri i componenti del gruppo perfetto i componenti e mancava il batterista mancava mancava chitarrista mancava un vero e proprio cantante screamer quindi eravamo solo io e qui presente cugino federico amici sempre dall'infanzia nonché appunto legati da un legame di sangue il nostro sogno era quello di fare una band sin da piccoli fantasticare fantasticare senza mai arrivare a niente poi finalmente iniziamo a scrivere i primi pezzi ma non avevamo nessuno con cui suonarli quindi gradualmente diciamo dal 2012 è entrato il lo screamer josh più o meno sì e da lì quindi diciamo che la formazione si è si è un po fissata poi gli ultimi arrivati sono qua dietro ma non sono stati relegati lì perché sono cattivi anzi hanno dato molto meno male dai quindi insomma non sono stati messi lì a castigo no anzi li faremo parlare tantissimo dopo perfetto e progetti invece futuri quindi prossimamente prossimamente sicuramente eh faremo date quante più date possibili quindi l'obiettivo è live si si perché sempre quel periodo di transizione in cui uno scrive scrive e si chiude in studio e poi chiudo un po hai bisogno proprio del palco hai bisogno della gente davanti come dire adesso c'è quel periodo in cui fai fisse date a 2.000 e non ne puoi più dire su una live e devi mettiti in studio a scrivere ti credo che te lo scrivi più e voi sul palco chi siete cosa fate qual è il vostro approccio no perché più che altro almeno il mio approccio è quello di tirarmi in mezzo alla gente e renderle il più possibile partecipi a me la gente ferma non piace sinceramente e c'è sempre all'inizio assolutamente poi si creano situazioni ragazzi avvicinatevi non mordiamo giuro poi si creano situazioni tipo trenini saldi sembra di essere villaggio turistico ed è molto bella questa cosa la cosa del trash dell'Italia è portata nei concerti metal sì che però comunque non è mai ridicola come cosa si cerca sempre di mantenere ora va bene che uno fan metal in teoria dovrebbe avere un certo una certa attitudine però se uno ascolta quello che facciamo capisce che non siamo nemmeno poi così metal si fa un po quello che vogliamo e quindi anche lo show cerca di essere quanto più particolare possibile non siete brutti attivi e imbuzziti assolutamente non ci piace prenderci troppo sul serio fondamentalmente ma si ma il metallaro giusto poi è quello che non si prende sul serio sempre disposto allo scherzo alla battuta alla birra una maschera al metallaro una maschera dietro c'è sempre un cucciolo quindi più delle volte almeno è sempre stato così ho visto un meme molto carino su internet dove c'era metallaro quello col face painting no bianco e nero poi vede un gattino gattino con i testi che parleranno di quello sicuramente sì sicuramente adesso lui diceva in trenino così ma perché siamo dei cazzoni banalmente quindi è giustissimo io però adesso sono curiosa perché loro ci hanno detto che non si prendono tanto su serio no che lo stile è quello esatto un po strana no un po coro un po quindi io sarei curiosa di andare a sentire subito immediatamente il vostro video ciao So now it's hard to hold It's time to look away You know that something changes Can you feel me? Have I got no fun? Only gamers look at this girl Oh wow, what's your son? Wait, fuck out, you really find Honey girls in your tongue And don't say where Don't stop collapsing My voice will swipe and tell You like it, huh? Same states, my IQ side Cause I like that And I know it's made So we ignore it Josh, this shit doesn't work I want it God, it's a state Just missed and I forgot To smell the rain From now on, it's hard to hold So I don't look away You wonder why you'll taste the same Changing the face of The worm and the sun woke me this morning The rain is so high So I'll find that I hit my back Won't come in Are you fighting? She said I want Cause I've been in so far Falling in the trees And I'm free That I'm crazy Can't waste to tell Your numbers fuck You just need one You have to wait And wait It's that way It's that way I'm cooking myself Come back It's not even The sky is Next day Progress is pointless, brother If you forget what makes it a breath I'll breathe I'll breathe I'll breathe You'll feed me You'll feed me Finish progress It's not magic Bye Ma che figata, ragazzi Mi hanno detto che non si prendono sul serio E non si prendono sul serio Abbiamo fatto igner Credo il video più stupido che abbiamo fatto Ma non è stupido, è geniale, ma che stupido, è bellissimo. Poi mi stai notando Zeb, Patrimonio Toscano. Madonna, non lo diciamo perché se no ci spellano. Sì, ho notato Zeb, ho notato una Lara Croft zottissima, le maestà di fuori, ho trovato Celebrity Deathmatch. Ho chiuso la malacchità. E poi perché la scelta di suonare non strumenti veri, ma la strumentazione del Guitar Hero? È stata tua l'idea, Ico, mi sembra. Sì, l'idea inizialmente era, alla base del video, era completamente diversa da quella che poi è avvenuta. Perché volevamo fare una cosa che richiamasse un po' il mondo tecnologico e l'idea della chitarra di Guitar Hero era la cosa che più si avvicinava alla cosa tecnologica per uno strumento musicale. Poi dopo tutto è degenerato e quindi è diventata una cosa quasi comica anche il fatto che uno possa fare musica con la chitarra di Guitar Hero. Poi notavamo questo giro di chitarre che diceva aiuto! Esatto, perché non funziona mai anche quando le fai con le chitarre vere, soprattutto quando le fai. Sì, perché ti slaccia l'80% delle cose. Ci siamo sbucciati la schiena, poi abbiamo smesso di fare queste cose. Sì. Troppo rischio. No, molto divertente però, un video fatto in una certa maniera. Ve lo siete fatti fare o c'è qualcuno di voi qua in mezzo che l'ha fatto? Eh, no, siamo io e lui. Siamo la mia ziendina. In generale tutta la band è autoprodotta. Eh, è positivo. Quindi ci arrangiamo. Perché comunque non è semplice fare un video del genere, proprio per niente. E ho detto, cavolo, però se se lo sono fatti fare da un professionista hanno speso una barcata o altrimenti questo mi mandava a quel paese, quindi secondo me è qualcuno lì in mezzo. Una buona percentuale. Siete voi due, quindi i cuginetti. Eh, sì, è colpa dei cuginetti. Poi una buona percentuale di noi è lucchese, quindi per spendere… Il costo di questo video sono 30 euro. Sì, 30 euro. 30 euro. Il telo verde. Basta. Inizialmente infatti abbiamo detto, bellissimo, non devo fare tutte le riprese, tutti i take. Treppiede, telo verde, bello, poi a montarlo, mi è passata la voglia di ridere. Sì, perché ci sono un sacco di cambi in quadratura, le scritte dietro, no? Tutti, voi, tutti scontornati, green screen, appunto, quindi, cioè, c'è un lavoro dietro. Sì, è stato un problema, sì, un problema è coordinare il vestiario, perché tutti quanti avevano portato qualcosa con del verde, quindi teste volanti, vabbè. Eh, sì, quello può essere un problema, non funziona. Poi c'era la batteria di chitarino, la chitarra, ma tutti un tasto verde, quindi quello l'abbiamo scolciato. È vero, è vero. È geniale, bellissimo. È fatto bene, divertente, geniale, appunto, ci sono un sacco di richiamini, così, sicuramente è un prodotto che è venuto molto, molto bene, ragazzi. Grazie. Rimarrete in testa, però non abbiamo detto come si chiamava questa canzone. Number three blew my mind, che sarebbe un po' uno scimmiottare, quelle cose che spesso si trovano su internet, dieci modi per dimagrire senza fare attività fisica e quindi... Dieci cose che solo, che è nato negli anni 90, può capire, se bevi la birra sei intelligente, se arrivi tardi sei intelligente, se sei disordinato sei... io sono un premio Nobel a quanto pare. Tutto così. Inizialmente anche il testo doveva essere un po' più serio, vero, Andre? Sì, inizialmente, infatti, la bozza, diciamo, è partita da me, inviata lì a lui, era molto più dark, però effettivamente suonava come qualcosa di un po' noioso e non... il risultato sarebbe stato sicuramente diverso da questo, un po' meno divertente forse. Sì, ma ci avessi provato, poi è andato tutto a merengue. Sì, sì, esatto. Abbiamo provato a fare i seri, ma non ci siamo riusciti. Sì, siamo proprio in critica, ma poi ci siamo di cosa critichiamo, che siamo sempre lì al telefono, cioè cosa critichiamo la tecnologia, cioè... e quindi è tutto un po' anche autoreferenziale con la consapevolezza che in queste cose ci si ricasca sempre, bene o male, quindi nella chat che fa fraintendere le cose, nel malinteso, nella comunicazione sbagliata fatta tramite cose che dovrebbero aiutarti a comunicare, queste belle contraddizioni. Che dovrebbero inglobare l'uno nell'altro, amicizia, invece ti isolano, tutte queste... Però c'è una cosa per cui sono utili questi marchi ingegni, tecnologici, e sono i social dove vi possono trovare i nostri ascoltatori. Guarda, guarda come me l'ha, zà, proprio lanciata così. Allora, i social sono senz'altro Facebook, che ci trovate come Under the Bed, però per non andare a ricadere sul film, che si chiama anche Under the Bed. Molto spesso capita che venga fuori qui. Il link dovrebbe essere facebook.com.utb.underthebed. Su Instagram ci trovate sotto Under the Bed Official, non facciamo finta di essere serie anche lì, ma nessuno ci crede, e anche YouTube Under the Bed Official. Anche quello però in caps lock, quindi ancora dandosi delle arie che però non funziona. Quindi tutto in caps lock, come se steste urlando... Urlando! Sì, urlando! Guarda bene! Esatto! Vi prego, ascoltateci! Vi prego, ascoltateci! Non accade! Non accade! Stavo cercando anche adesso di mantenere un tono... Un aplomb! Prego! Per favore! Non abbiamo soldi! Si fanno i video complicazioni, ragazzi! Esatto! I gazzoli! Pur di non spendere! Sentite, ma tra l'altro stavamo dicendo che è appena uscita una cosetta! Eh sì, è uscito da poco questo, diciamo... Parto? Sì, questo parto! E credo che la persona che può parlare meglio è la persona che effettivamente ha passato questi mesi di gestazione registrando... Vabbè, l'abbiamo passato tutti comunque, no? Perché a proposito di essere lucchesi... Così, di essere do it yourself! Esatto! Sì, esatto! Di essere... L'arte di arrangiarsi... L'arte di arrangiarsi però viene sempre per un motivo fondamentalmente, ovvero quella di cercare di spendere il meno possibile... E avere anche il controllo, no? Cioè l'indipendenza... E avere il controllo più totale nella realizzazione delle cose, spesso e volentieri magari ci siamo trovati che... Nelle volte in cui abbiamo affidato il nostro lavoro a dei professionisti del settore non mai, alle volte, non sempre del tutto soddisfatti. E quindi ci siamo detti, vabbè, arrangiamoci... Questo mi sono detto io anni e anni fa quando ho cominciato a registrare, appunto, quando registro voglio che vengano fuori le cose come le voglio io, no? Eh, perché tu sai quello che vuoi e lo fai venire così come vuoi tu! Esatto, capito? Un po' magari sbagliato o è brutto, capito? Però almeno quello vuoi... Poi, soprattutto possiamo fare pressioni senza aver paura di essere troppo invadenti... Ma neanche persone è veramente peggio! Cioè se fai pressioni con me lo sai bene! Eh, dai, fratti noi... Poco io questa cosa che Luca e la Ginova del centro Italia non la sapevo... Non sapevo nemmeno io eh! Nel senso che siamo spilorci? Eh, sì! Che hai detto? Che costi quanto il cerchio ai Lucchesi? Eh, vedi scopro cose nuove io... C'è questa cosa, questa tradizione diciamo, però non so da cosa deriva nella storia proprio da cosa... Non lo so... Però credo che a Genova siano più famosi... Beh, sì... Io ora non conosco tanti genovesi, però pare che... Ma allora, quindi siamo rimasti a questo album... Siete autoprodotti? Siamo autoprodotti, sì esatto... Lo studio di registrazione dove io lavoro, Natana del Lupo... Posso fare pubblicità anche qua? Dove si trova? Che si trova a Lucca! Allora la via non me la ricordo... No, via di mezzo! E... L'abbiamo partorito, è il primo disco che abbiamo partorito praticamente tutti insieme, perché prima fondamentalmente i brani nascevano da, diciamo, una testa che dava un input e poi dopo si cominciavano a scremare un pochino e si cominciavano a lavorare insieme. Mentre invece questi brani qua sono nati veramente in sala prove per la prima volta, penso, da quando esistono gli Under the Bed. Anche per colpa di quei cambi di formazione, cioè del fatto che all'inizio eravamo solo in due, poi magari il batterista era un altro ragazzo, era venuto dopo, quindi gli facevamo vedere i pezzi, li portavamo in sala o si componevano al computer con Guitar Pro, queste cose qua. Qua abbiamo proprio deciso, ok, siamo stabili. Da zero. Partiamo da zero in sala come si dovrebbe fare in teoria, cioè vai lì, non sai che cosa fare, non ti prepari niente a casa e vai. Sì, un momento sgombro proprio. Penso sia stato un lavoro piuttosto corale e non individuale come magari i precisi lavori. Io mi sono anche sforzato, non so voi, di non fare compiti a casa. Cioè nel senso, quando tornavo a casa non mi mettevo lì a scrivere troppo, volevo arrivare lì in sala col punto interrogativo piantato in testa. No, sì, è stato un grosso flusso di coscienza questa volta. Bravo, te lo stavo per dire io, è un flusso di coscienza a tutti gli effetti perché poi... Sì, sì. Ma infatti si sente anche tanto nei brani nuovi, si sente molte più influenze, anche perché comunque deriviamo tutte da scuole diversi, io magari dal Power Electronics & Noise, lui dal New Metal e via dicendo, lui addirittura conservatorio, violinista, gigante. È il secchio eh? Sono bocciato. Sì, diciamo un po' la faccia. Non lo dico, sono violinista, sono bocciato al conservatorio. Vabbè, dettagli. Il classico calcio nel divieto. Però, insomma, sì, background diversi e anche modalità di scrivere e anche di registrare. Anche di registrazione perché comunque sia i primi due dischi nostri erano stati fatti veramente a tavolino, in camera mia, a registrare le chitarre sul letto fondamentalmente, a sede sul letto. Mentre invece... Vestiti, certo. Mentre invece questo è stato proprio il vero disco registrato in uno studio di registrazione vero, in due studi di registrazione tra l'altro. Perché batteria abbiamo fatto uno studio, il basso è un altro. Insomma, è stato il primo lavoro serio. Si può dire serio? Sembra di sminuire quegli altri però, nel senso. No, 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 no. È l'impostazione, l'idea di dire mettiamoceli e costruiamo tutto insieme. Più concentrato. Esatto. Cinque teste, cinque, dieci mani. Diciamo che erano seri anche gli altri in un certo senso. Ma non c'eri te. Esatto. No, sì, c'eri. Praticamente a questo giro è stato tutto suonato al 100% rispetto a magari i precedenti che non so, c'erano cose di produzione in cui, non lo so. Vabbè, anche lì per risparmiare la batteria era stata fatta scritta al computer. Tanto si torna sempre lì. Si ricasca sempre lì. Si torna al risparmio. Ma ragazzi, perché va bene, il discorso è uno cerca sempre l'etichetta, cerca sempre il produttore, cerca sempre la possibilità di essere aiutato da qualcuno di esterno. Però chi meglio di te sa cosa vuoi e come puoi ottenerlo. Quindi, se hai le possibilità e le capacità, perché non farlo? Sì, sì, poi voi avete anche un bel cu... Perché già lui... No, vabbè, bocchiate, io registro, loro due fanno i video. Lui cerca le date. Josh è Josh. Poi fai live e tutto il resto. Anche Josh è un PR. È una bella squadra, nel senso, tra tutti quanti. Lui è il PR, te sei quello che registra, loro fanno i video e tu suoni comunque. E quindi, insomma, è una squadra che sicuramente funziona benissimo, perché oggi c'è una propria particolarità. Vi fate le cose da soli, in casa. E via. Meglio di così, no? Magari quello che dovreste spendere per andare a registrare un album, piuttosto che pagare una persona che vi fa un video. Certo. Così, lo spendete, ecco, facendo una qualche tabulata, andando a mangiare fuori tra di voi. Ovviamente quando disco c'è, quindi ci vuole tutto il contorno. Ovviamente. Coppie fisiche, merch da portare ai concerti. Promozione. Promozione, che comunque è importante investire in questo. Sì, quello sicuramente ha un costo suo così, però già il fatto di avere la registrazione... Eh, quello che risparmiamo lo possiamo investire in maniera diversa. Esatto, lo investite, anzi, potete anche avere un prodotto più bello, proprio perché avete speso meno. Più pubblicizzato. a livello proprio di sponsorizzazione, non l'album. Sì, sì, sì. Il senso è quello. Direi che quadra tutto alla proporzione. Ma voi ci avete portato delle foto? Sì, tra l'altro mi sono anche scordato di cosa vi ho mandato, quindi sarà bello rivederle. Ah, bene. Andiamo a vedere le foto. Vediamo se possiamo vederle perché... No, no, ma perché è questo? Dai. Ma ci sono i miei genitori che lo guardano questo programma qui. Era comodo quel bancone, effettivamente. E' un piacere anche il gattillo disegnato con cosa sono, dei legnetti. Sì, con dei genga. Sì, esatto. Che è stato... Guarda, l'hanno pure oscurato. Sì, ci hanno detto di essere bravi, quindi abbiamo cercato di far vedere un po' di marciume, però dai... Così fa ancora più ridere, secondo me pixelato è ancora più bello. Beh... Josh, vuoi spiegare la tua maglia di Renato Zero? La cosa devi spiegare? Renato Zero è una bomba, quindi non c'è niente da spiegare. Mi sembra giusto. E' un giusto tributo. Sei un sorcino. E' il tuo artista underground preferito. Un artista underground. Beh, però lui nel pop italiano mi ha messettato tanto il hardcore. Questo invece era il... Metico. Release party al cycle. Sì. Ottobre 2016 abbiamo suonato i pezzi del nostro secondo disco e del primo. Un'ora e mezzo di scaletta. Quattro ore di scaletta. Fino a più. Mai più, veramente. Avevamo sudati in una pozza di... E lì quando la gente si è messa a sedere. E questa cosa della gente è seduta lì. Sì. E questo è Josh. Questo è quello che fa Josh. Sì. Poi la cosa orribile che successe quella sera lì dopo che comunque erano mesi che provavamo, provavamo, provavamo. Era tutto perfetto. Avevamo questa scaletta impeccabile, preparatissimi. Arrivati al soundcheck il pomeriggio mi si è spaccata la meccanica del basso e io non avevo altri bassi di ricambio. e non è che una corda che la sostituisci, proprio la meccanica spaccata. E quindi fu un incubo perché chiama a destra, chiama a sinistra, noleggia, perché non avevo lo strumento. Abbiamo fatto tipo sì, per quattro persone, uno era a Milano, quell'altro non aveva più il basso, l'aveva venduto. 20 minuti prima di suonare è arrivato questo mio amico che mi ha portato il suo, scacio, scordato, con il manico imbarcato però la serata si è fatto. Da notare tra l'altro basso a cinque cordi, insomma, un comunissimo basso. Eh no, serviva comunque a cinque cordi perché, insomma, i pezzi sono... Eh sì, l'avevi studiato un po' così, quindi nel senso vero. Eh sì. Qui trasferte in Umbria, tra le nostre preferite, anche per il cibo. Abbiamo fatto una classifica di pusti dove abbiamo mangiato meglio e l'Umbria credo sia in testa. Assolutamente. La pasta alla norcina. La norcina vince su tutto. E questi, vabbè, siamo noi dopo aver fatto... E' quella foto più seria che avete forzato. Sì, sì. Ci abbiamo provato a fare i seri. Esatto. Anche lì c'era una versione della foto tutti impostati e giustamente Michi ha detto dai, ridiamo perché... Vabbè, io ho comunque una paresima, eh. Perché sono io così, però vabbè. Ho provato. Vabbè, era tutto il giorno che giravamo alla fine. Dove giravamo? C'erano le camere su tre piedi. Esatto. E sì, bello. Poi, appunto, la foto di noi che eravamo mezzi sbronzi, sdraiati, quella era un'altra serata molto bella, non mi ricordo dove. Brescia. Brescia, per voi poi, perché io la mattina ero a lavorare. Sì. Cioè, lui è tornato da Brescia la notte per lavorare. No, io sono uscito dal lavoro alle otto, ho preso la macchina, sono andato fino a Brescia con la mia ragazza, abbiamo suonato e poi dopo siamo tornati giù e la mattina alle otto entravo a lavoro mentre voi vi siete divertiti. quindi il gruppo è anche sacrificio perché... Eh sì. Purtroppo... È stato rotto anche uno specchietto del furgone a quella data, tra l'altro. Sì. Furgone noleggiato. Ah sì. Ed è lì che torna comodo aver risparmiato perché lì volano i fogli d'accento così. Eh sì. Come se non ci fosse un domani. Sì, anche sagrati. Ora io gli farei la classica domanda che in questa stagione non abbiamo mai fatto ma che nell'antecedere... Ho già capito cosa vuole fare la nostra Nora. Gliela fai tu? No, no, gliela fai tu. Bene, allora giusto per mettervi in difficoltà perché siamo a conclusione della nostra intervista, io vi chiedo se gentilmente mi omaggiate di una vostra figuraccia fatta durante un live. Pensateci, vi do il tempo. La prima che mi viene in mente è... Cioè, subito! Subito! Come hai fatto? Ti dà che viene prima ognuno. Ma ognuno, ognuno. No, ma anche una molto clatante, ecco ce ne basta magari ora ce ne raccontate venti. Diciamo una abbastanza clatante è stata praticamente perdere Linear Monitor in cui appunto tramite Linear Monitor abbiamo basi, metronome eccetera eccetera e praticamente durante metà canzone è stato perso tutto. Ah sì, è vero. Alla spezia? Sì, che c'è stato. Mentre lui suonava gli è volata via la cuffia tipo ci siamo guardati disperante. Come è possibile? E non so se l'era messa male. Sì, l'era messa male. Non lo so. Era troppo preso forse. Capitano quei cambi palco di due secondi in cui non hai tempo neanche di sistemarti e probabilmente era annodato male. C'è anche il tuo sguardo, c'è una foto proprio, non l'abbiamo portata dove ci sei. C'è il tuo sguardo terrorizzato mentre stai suonando, ci siamo guardati e abbiamo tipo improvvisato. Mancavano tutte le sequenze di synth sotto, tipo abbiamo fatto una roba semi acustica continuando a suonare fuori tempo cercando di riacchiaffare però dai. Sì, diciamo, l'abbiamo risolto tutto, esatto. Il peggiore in questi casi è fermarsi. Chi si ferma è perduto, ma scherzi. Assolutamente. Ma figuraccia, figuraccia. Alla fine sono quei casi in cui quando succede qualcosa di intoppi dal punto di vista live, le persone che più la sentono come una figuraccia sono i musicisti. Poi vai sotto e dici, no, porca miseria, ho sbagliato questo. Ma no, ma è stato bellissimo. Ma come, non ti sei accorto che ero fuori tempo? No. Quando? Meglio così, eh. Meglio, meglio assolutamente. Beh, anche perché voi la vostra canzone giustamente le conoscete a memoria. Quindi, insomma, se scappi un secondo, quel secondo tu te ne sei accorto? Magari quelle 500 persone che c'erano sotto? No. No, è certo. Quindi... Però... Se questa è la peggiore... Oddio, forse figuracce ve l'ho fatto fare io ogni volta che mi metto in mutante sul palco. Eh beh, ecco, ecco. Ma magari andiamo un attimino... Quando avremmo fatto un live al cycle? Sì. Era quello con i destri? Sì. Ci sei vestito da mucca? No, quello era un altro. Sì. Durato un brano... Ok, io adesso voglio sapere lui di cosa si fa. No, ovviamente perché. Sì, avevo visto... Abbiamo mutande mucca, poi? Sì, avevo effettivamente visto costume da mucca. Non avevi previsto di spogliarti. No, non era... Lo suonerò con questa cosa, ma era appunto di pile. Quindi dopo 20 secondi di canzone... Esatto. Mi galleggiava nel sudore. Sì, neanche un pezzo. Ragazzi, non so come fare. Si è spogliato, ma sotto ovviamente ero in mutande, quindi è rimasto così. E delle converse di pelle grossissime, brutte, ma brutte. Questa è bello. Un pochino il pile ti è rimasto. Sì, ma quello infatti fai sempre la sua bella figura. Vabbè, io concluderei qui, perché insomma, ce ne avete dette di fotte e di crude, quindi... Noi, niente, ci troviamo a salutarvi, ragazzi. Lo ricordiamo per l'ennesima volta, sono gli Under the Bed, quindi li trovate su tutte le pattaforme social. Piattaforme, belle. Piattaforme social che vi hanno prima elencato. E anche noi ci ritroviamo al prossimo giovedì, ore 22.45, sempre qui su Clivo TV con Metal Detector di Sotterra, l'Underground. Ciao!